Appuntamento speciale di Pavia Italia per parlare di Made in Italy. Gentili telespettatori, intanto grazie per l'attenzione. Siamo qua perché nelle scorse settimane abbiamo visto delle manifestazioni, anche clamorose, che hanno fatto molto discutere nell'opinione pubblica da parte di Coldiretti, proprio in difesa del Made in Italy. Abbiamo visto gli agricoltori e i vari delegati di Coldiretti andare sul Brennero a protestare per due giorni, il 4 e 5 dicembre, sempre il 4 dicembre c'è stata una manifestazione a Reggio Emilia, il 5 dicembre, ce lo ricordiamo tutti, il maialino davanti al Parlamento. Tutto perché Coldiretti chiede che sia difeso il Made in Italy. C'erano tante persone che hanno aderito a queste manifestazioni, anche dalla provincia di Pavia, che sappiamo essere una provincia che sul settore dell'agricoltura e dell'allevamento basa una buona fetta della propria economia. Cerchiamo di capire però veramente che cosa c'è in ballo, dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista di noi consumatori. Intanto le immagini delle proteste. Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione sai, comprensione sai, ti trovi l'incompetizione sai, competizione sai. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli ulti della vita. A quel che leggi sul giornale, a quel che leggi sul giornale, a quel che leggi sul giornale, e certe volte anche alla sfiga. Ci vuole un fisico bestiale, speciale sai, anche per bere e per fumare, sai, fumare sai. Ci vuole un fisico bestiale, perché siamo sempre ad un incrocio. Insomma è chiaro che all'interno di questa Europa, che considera un po' il nostro paese come la figliastra, non ci troviamo bene. Noi nei giorni scorsi eravamo al Brennero, eravamo mobilitate in tutta Italia per dire no all'Europa, che vuole a tutti i costi imporci le proprie regole e che soprattutto nell'agroalimentare non ci mette nelle condizioni di fare trasparenza. Noi non abbiamo chiesto la chiusura delle frontiere, abbiamo semplicemente chiesto che dall'Europa arrivino dei prodotti che siano riconoscibili sugli scaffali dei nostri supermercati. Oggi la nostra agricoltura è in crisi, ma proprio perché viene messa in competizione con prodotti che arrivano dall'estero che non sono etichettati, per cui il consumatore non è alle condizioni di scegliere il made in Italy che tutto il mondo ci invidia. Così quindi il direttore di Coldiretti Pavia. Io vi presento le nostre ospiti che sono qua in studio con noi, sono Anna Maria Seves, che per Coldiretti Pavia era responsabile della sicurezza alimentare e non solo perché ti occupi anche di scuole, formazione, avremo modo di parlare. E poi Silvia Manna, delegata provinciale, giovane impresa Coldiretti, rappresenti tutti i giovani che resistono ancora e vogliono lanciarsi in questa avventura di fare imprese in questo fondamentale settore. Silvia, io partirei proprio da te, perché il direttore Roncalli ha detto una cosa importante, non vogliamo chiudere le frontiere, però a Brennero all'inizio di dicembre eravate in tanti, eravate anche imponenti come massa colorata, gialla, sicuramente un colore simpatico, però tra tante manifestazioni che vediamo in questi giorni di persone che bloccano strade, eccetera, la domanda è intanto se avete effettivamente bloccato la frontiera e poi se volete bloccarle anche in ideale. Allora, non abbiamo bloccato i TIR, noi abbiamo affiancato la Guardia di Finanza e i NAS durante la loro normale attività di controllo che fanno quotidianamente, quindi è stato una sorta di amichevole affiancamento. Quello che chiediamo non è che vengano chiuse le frontiere, che ci siano dei dazzi o che si ritorni ad un regime protezionista, questo assolutamente no, quello che noi chiediamo è che ci sia trasparenza e che quindi nelle etichette si è indicato precisamente l'origine delle materie prime dei prodotti. Questo oggi non è così, ma il consumatore ha il diritto di sapere quando va a fare un acquisto, di poterlo fare in maniera consapevole. Questo è possibile solamente con una chiara tracciabilità e quindi con queste indicazioni in etichetta. Tu parli principalmente dal punto di vista dell'impresa, io parlo dal punto di vista del consumatore. Lo sono anche io in realtà. Naturalmente, come tutti siamo consumatori. Io però volevo anche sapere, magari chiedo a Anna Maria, ma noi consumatori corriamo dei rischi? Che cosa c'è in ballo? Sicuramente l'acquisto di un prodotto italiano è una garanzia di qualità, ma anche di grande sicurezza alimentare, perché i controlli sull'igiene degli alimenti e sulla sicurezza degli alimenti che ci sono in Italia non ci sono in nessun altro paese europeo. Quindi il prodotto italiano è assolutamente una garanzia per il consumatore. Abbiamo più controlli, così? Assolutamente, molti più controlli. Quindi noi siamo più tutelati, noi che acquistiamo da questo punto di vista. Certo. E naturalmente l'azienda ha più spese, perché se ci sono più controlli bisogna garantire anche questa sicurezza e quindi anche l'impresa, l'azienda, deve seguire delle regole molto precise, cosa che negli altri paesi europei non accade, o non in tutti. Parliamo di costi, Silvia, ma il falso made in Italy quanto vale? Tantissimo. Il falso made in Italy oggi vale 60 miliardi di euro l'anno, soldi che ci vengono di fatto rubati e che potrebbero entrare nelle casse delle nostre imprese, del nostro Stato, e che in qualche anno sarebbero in grado di probabilmente rimettere a posto la situazione gravissima nella quale ci troviamo. Il deficit tornerebbe probabilmente a riposizionarsi se questi soldi non venissero poi di fatto rubati, ma così accade. Ma adesso ci sono delle leggi che in qualche maniera tutelano il consumatore? Diciamo che una legge esiste del 2011, il problema è che non esistono i decreti attuativi che permetterebbero di far sì che entri in vigore. Di conseguenza per alcuni prodotti esiste una normativa, per altri prodotti no, ad esempio il suino, i trasformati. Questo oggi non accade, quindi il consumatore non ha la possibilità realmente di andare a capire da dove proviene la materia prima. Di capire da dove arrivano. Però io adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo. Anna Maria, qualcuno ha detto che non produciamo abbastanza in Italia per accontentare tutti i consumi. Che tipo di discorso è? Sì, in realtà è stata detta questa cosa. Molte nostre aziende purtroppo stanno chiudendo perché in realtà, come lo spiegavo anche prima, i nostri costi di produzione sono alti e in realtà ai nostri produttori, la materia prima viene pagata con cifre che non sono neanche sufficienti per pagare i costi e nonostante il nostro prodotto sia qualitativamente e dal punto di vista igienico-sanitario sicuramente superiore rispetto a quello che viene importato. Però questo il consumatore non lo sa. Perché quindi quando io vado ad acquistare un prodotto venduto come prodotto italiano, non so se la materia prima, se stiamo parlando per esempio di salumi, arriva dalla Germania, dall'Olanda o dalla Repubblica Ceca. Io so solo che questo prodotto ha un marchio italiano. Quindi potenzialmente potremmo produrre di più, poi non lo facciamo perché i costi, perlomeno il mercato, anche per questi aspetti normativi che voi contestate, non riesce ad autofinanziarsi. Non lo facciamo perché in realtà è meglio comprare all'estero perché costa di meno all'industria. A chi fa trasformazione costa meno comprare all'estero. È meglio comprare all'estero. Però c'è qualcuno che fa il furbo oppure, Silvia, è comunque tutto legale? Oggi è legale, però capisci che entrando nel nostro Stato una quantità così enorme di materia prima ad un prezzo così basso, questo fa sì che anche il prodotto che produciamo noi sia pagato allo stesso modo, la legge di mercato, della domanda e offerta. Quindi di fatto le nostre aziende si vedono pagate per i propri prodotti lo stesso, la stessa cifra, lo stesso prezzo viene pagato per i prodotti che arrivano dall'estero. In realtà non hanno lo stesso valore e questo fa sì che molte aziende oggi stiano chiudendo. Solo negli ultimi anni 140.000 stali e allevamenti sono chiusi. Quindi è una situazione che se peggiora rischia veramente di divinare le nostre aziende, posti di lavoro e il consumatore poi ovviamente ne risentirà perché sarà costretto ad acquistare solo un prodotto che arriva dall'estero. Ma ne arriva davvero così tanta di merce dall'estero perché tra le varie cose che si sono dette in quei due giorni di protesta qualcuno ha detto sì, però sono stati lì due giorni, alla fine hanno trovato soltanto tre prosciutti che venivano dalla Germania. No, in realtà non è proprio così. I camion fermati sono stati 120 circa. Teniamo conto, io tra l'altro ho avuto modo di partecipare in entrambe le giornate, che al confine c'erano file infinite di camion che stavano aspettando che terminasse la nostra protesta per poter valcare il confine. Quindi la quantità di prodotti che sono arrivati in Italia sono comunque una cifra irrisoria rispetto a quello che in realtà arriva tutti i giorni. Poi ho avuto modo di constatare anche che lateralmente c'era una ferrovia che trasportava con tantissimi container contenenti appunto materie prime provenienti dall'estero. la quantità di cibo che arriva è veramente enorme. Ma noi come possiamo tutelarci, Anna Maria? Perché le etichette in una qualche maniera abbiamo capito che ci sono, anche se poi c'è questa legge che ancora non può entrare in vigore, perché mancano dei pezzi, possiamo dire così. Però le etichette ci sono. Spesso non sono così comprensibili forse. E intanto il consumatore non è tanto abituato a leggere bene le etichette. Sappiamo che circa il 6% dei consumatori conosce per esempio i prodotti DOP, in denominazione origine protetta. Questi prodotti sono già una garanzia di un prodotto al 100% italiano, perché proprio perché per questi prodotti esiste un disciplinare, la denominazione di origine protetta prevede che tutte le fasi dall'allevamento alla trasformazione al confezionamento avvengano nel territorio di origine. E quindi già se noi acquistassimo prodotti a marchio DOP, sapremo che questi prodotti sono al 100% italiani. Però in realtà non tutti conoscono questi marchi. Quindi bisognerebbe sicuramente che il consumatore fosse più informato e che imparasse molto di più a guardare l'etichetta. Facciamo un esempio, perché spesso è vero, magari io sempre mettendomi come consumatore, l'etichetta a volte non la guardo, oppure se la guardo non capisco che cosa... Però è vero, faccio l'esempio dell'olio, perché è quello che si fa più spesso, però prima voi mi stavate parlando anche con i prosciutti, mi sembra di capire che è la stessa cosa. Che io ho un prodotto con scritto, vabbè è un prodotto fatto in Italia, o qualche cosa che comunque rimanda a un trecolore, e poi magari se si parla di olio, dentro ci sono olive che arrivano dalla Grecia, dalla Turchia, dalla Spagna, eccetera. Di fronte a tutto questo marasma, ci possiamo difendere in qualche maniera? Noi che compriamo adesso? Non è facile, non è facile, per esempio nel caso dell'olio, la provenienza è, c'è scritto origine comunitaria, quindi in realtà le olive potrebbero essere italiane, ma potrebbero essere di provenienza di altri paesi comunitari, quindi già questo non è una garanzia. Io non sono sicura di aver comperato un olio fatto con olive italiane, in questo modo. E questo vale per molti altri prodotti. Ad esempio, ma Silvia, mi dicevano che per il prosciutto non ci sono etichette, è vero. Ho potuto constatarlo in prima persona, tir che arrivavano dalla Germania e contenevano prosciutti freschi, che poi avrebbero completato senza un marchio, e che poi avrebbero terminato l'ultima fase della lavorazione in Italia. Precisamente questo tir sarebbe poi di stato destinato a Modena, addirittura, e una volta terminata l'ultima fase, e quindi la stagionatura avrebbe avuto tutto il diritto, di fatto perché la legge questo permette, di avere il suo marchio made in Italy, quando in realtà sappiamo bene che questo suino di italiano non ha assolutamente nulla. Quindi io vado al supermercato, mi trovo prosciutto di Modena, mettiamo, non è di Modena che la carne non viene da Modena, e tutto questo è tutto legale. È tutto legale, sì, assolutamente. La legge permette che dove è stata appunto completata l'ultima fase diventi italiano. A proposito di Germania, perché vabbè, forse noi italiani a parlare male della Germania, è uno sport, è uno sport nazionale, però io qua vedo un manifestino che voi avete dato, che mi avete dato anche a me, che voi avete dato quando eravate là su Brennero, non solo, anche a Reggio Emilia, e Montecitorio, in cui leggo un capitolo, la questione tedesca, si parla di antibiotici. Anna Maria, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che negli allevamenti in Germania, ai suini sono stati somministrati solo nel 2012, 1740 tonnellate di antibiotici. E questa è una cosa che poi si ripercuote sulla nostra salute, perché alla fine questi suini diventano salumi, e noi li andiamo a comprare e li mangiamo. E quindi alla fine gli antibiotici finiscono a noi. E questo assolutamente non è certo un vantaggio per il consumatore, solo che il consumatore questa cosa non la sa. In realtà, come dicevo prima, nelle nostre aziende ci sono dei controlli igienico-sanitari che non permettono questo. Ma su questa questione degli antibiotici, perché insomma, personalmente mi allarma un po', perché io sto sempre attento a prendere gli antibiotici soltanto quando sto davvero male, perché poi so che se ne prendono tanti non fanno più effetto poi con in passare degli anni. Adesso io non voglio accusare nessuno, non chiedo se è legale, se non è legale, quanto è rischioso per la salute, però noi in Italia, con i suini che alleviamo in Italia, li diamo anche noi così tanti antibiotici. Assolutamente, questo non è possibile in Italia. Tra l'altro noi abbiamo dei controlli molto accurati, non solo sulla gestione dei farmaci negli allevamenti, ma anche sui mangimi che somministriamo agli animali. Anche i mangimi devono essere controllati, certificati, stoccati in silo sidone e puliti. Questo proprio a garanzia della salute dell'animale e la salute dell'animale è anche la salute del consumatore. Esaurendo un po' un'altra cosa che avevo notato su questo volantino, Silvia, io qua vedo un paragrafo dedicato agli inganni, si parla di soldi destinati all'agricoltura, facilitazioni che in qualche maniera con questi procedimenti vanno forse a chi non se li meriterebbe. Diciamo sempre che però è tutto legale. Sì, è sempre legale. Purtroppo sappiamo che le risorse non sono tantissime e la cosa grave è che molto spesso vengono destinate appunto a queste aziende, a queste industrie che in qualche modo speculano perché basta appunto far arrivare una materia prima dall'estero per poterne in qualche modo beneficiare. È un inganno questo. Da questa chiacchierata, quello che vorrei anche capire, di chi è la colpa? Perché poi alla fine qualche cosa bisognerà tirare fuori. Cioè è colpa delle aziende che fanno un po' le furbe, è colpa di noi che quando compriamo non andiamo a vedere, la comunità europea, il governo italiano. È colpa un po' di tutti. Il consumatore prima di tutto dovrebbe imparare a fare i propri acquisti in maniera più consapevole e quindi leggendo le etichette, informandosi di più. È colpa delle istituzioni che in qualche modo non ci hanno dato realmente una mano. Adesso speriamo che le cose cambino affinché appunto venga garantito il diritto dei consumatori in primis e dei produttori di poter vendere ad un prezzo sufficiente almeno per coprire i costi di produzione e non dimentichiamoci che siamo aziende quindi anche avere un minimo margine di guadagno perlomeno. E quindi è colpa un pochino di tutti. Per la parte più strettamente politica poi vediamo anche brevemente le altre componenti. Per la parte politica c'è bisogno di fare qualche cosa subito? Sì, chiediamo che ci siano questi decreti attuativi e che si riesca in qualche modo a garantire un'etichetta più chiara. Questo lo stiamo chiedendo alle istituzioni. Noi continuiamo la battaglia, non termina qui col Brennero ma andremo avanti e speriamo ma siamo abbastanza convinti che piano piano già anche il nostro ministro sembra... Era presente che ho visto. Sì, 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 sì. Il nostro ministro Nunzia De Girolamo ascolta a un rapporto abbastanza vicino a col diretti ma alle organizzazioni sindacali agricole in genere. Bene, Anna Maria, riassumendo, un'etichetta a prova di stupido e a prova di inganni. Assolutamente, un'etichetta trasparente che permette al consumatore di fare una scelta consapevole. Io acquisto e so da dove viene anche la materia prima con cui è fatto il prodotto che acquisto. Che la capiscano anche i bambini, anche se so che i bambini con le vostre iniziative magari ne sanno anche un po' più degli adulti. I bambini con le nostre iniziative sanno a volte anche più dei genitori e devo dire che grazie al progetto di Coldiretti Educazione alla Campagna Amica io incontro bambini molto piccoli della scuola dell'infanzia ma anche ragazzi della scuola media e della scuola superiore e affrontiamo argomenti molto legati chiaramente all'alimentazione, all'agricoltura, al nostro territorio e quindi noi con i bambini facciamo un percorso di valorizzazione del nostro prodotto del prodotto di stagione, del prodotto chilometro zero, del prodotto del nostro territorio. Con le scuole superiori e con le scuole medie quest'anno farò un progetto proprio legato anche alla conoscenza dell'etichetta quindi con le scuola resche affronteremo questo percorso didattico tutto legato a imparare a leggere l'etichetta e così formeremo dei consumatori assolutamente consapevoli. Formare i ragazzi vuol dire anche arrivare alle famiglie e alle case. Diciamo che per le nuove generazioni siamo bene o male, mi sembra di capire a posto sperando che nel frattempo la normativa si adegui. Per intanto cosa facciamo? Possiamo comprare direttamente da voi, produttori? Il consiglio che posso dare al consumatore è quello di cercare il più possibile di acquistare prodotti a chilometro zero, quindi del territorio tra l'altro la nostra provincia è una delle più articolate possiamo reperire facilmente riso, vino, ortaggi, frutta, non l'olio però abbiamo una vasta scelta quindi acquistare o direttamente nelle aziende agricole oppure nei mercati di Campagna Amica ce ne sono diversi in provincia nelle botteghe qualora sia possibile oppure nella grande distribuzione ci sono già delle collaborazioni ad esempio con Iper abbiamo iniziato un rapporto di collaborazione attraverso un marchio collettivo che si chiama Voi e che comprende la filiera del riso, dell'olio, della pasta, del latte tutto garantito 100% italiano riso peraltro della nostra provincia Bene, vedo che allora qualche cosa si muove già da tempo la canzone che abbiamo sentito nel video iniziale diceva ci vuole un fisico bestiale mi sembra che Voi un fisico bestiale Il nostro mestiere ci vuole, è necessario e siate pronti a resistere va bene, grazie ci avete fatto scoprire qualche cosa in più ci avete chiarito magari qualcosa che non era appasso così chiaro in quei giorni, perlomeno a parte dell'opinione pubblica grazie allora ad Anna Maria Seves e a Silvia Manna rispettivamente per col diretti Pavia responsabile della sicurezza alimentare ma anche elementare visto che lavori con i bambini e delegata provinciale di Giovane Impresa grazie a voi telespettatori per essere rimasti con noi l'appuntamento e alle prossime occasioni di informazione di Telepavia